Prelevare campioni di acqua lungo le coste italiane per cercare traccia della foca monaca nel mar Mediterraneo. Questo l'obiettivo del Foca Monaca Day per sensibilizzare adulti e bambini alla salvaguardia del mammifero considerato a rischio di estinzione a causa dei cambiamenti climatici, dell'inquinamento e della perdita di habitat. A organizzare l'iniziativa dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia, dalla Liguria alla Sicilia, sono stati il WWF Italia e il gruppo Foca Monaca, centinaia i partecipanti al progetto di Citizen Science attraverso un metodo non invasivo per mappare le residenze di Monacus Monacus nel mare Nostrum. Oltre alle coste italiane, i ricercatori a bordo di barche a vela raccoglieranno campioni di acqua in mare aperto. Esplorare aree remote come l'ambiente pelagico offre la possibilità di indagare la presenza della Foca Monaca in territori inesplorati, il commento del WWF Italia.